Benvenuti su Next Evolution. John Wayne Gacy, noto come il Killer Clown, è stato uno dei serial killer più famigerati d'America. I crimini di Gacy hanno sconvolto la nazione alla fine degli anni 70, con la sua capacità di mascherare il suo vero io, che gli ha permesso di commettere atrocità per anni. Questo documentario approfondirà la vita oscura di Gacy, esplorando i suoi primi anni, le attività criminali, la cattura, il processo e l'impatto dei suoi crimini sulla società. Il nostro viaggio inizia con uno sguardo alla sua infanzia e alle radici del suo oscuro cammino. John Wayne Gacy nacque il 17 marzo 1942 a Chicago, Illinois. La sua infanzia fu segnata da un rapporto tumultuoso con il padre violento e alcolizzato. Nonostante la sua vita familiare travagliata, Gacy era uno studente brillante e mostrava precoci segni di leadership. Problemi di salute durante l'adolescenza lo isolarono ulteriormente, esacerbando i suoi sentimenti di inadeguatezza. Dopo il college, la vita di Gacy sembrò prendere una svolta positiva, ma i semi delle sue tendenze più oscure erano già stati seminati. Il primo incontro di Gacy con la legge avvenne nel 1968, quando fu accusato di aver aggredito sessualmente due adolescenti. Questi eventi segnarono l'inizio di una lunga serie di crimini. Vivendo a Waterloo, Iowa, Gacy attirò i ragazzi con promesse di alcol e pornografia, aggredendoli in seguito. La sua abilità nel manipolare e ingannare i giovani era inquietante. Uno dei ragazzi denunciò l'aggressione, portando all'arresto e alla condanna di Gacy per sodomia. Questo fu un momento cruciale nella sua vita. Nonostante la gravità dei suoi crimini, Gacy mantenne una buona condotta in prigione, partecipando a programmi di riabilitazione e guadagnandosi la fiducia delle autorità, ottenendo la libertà condizionale dopo soli 18 mesi. Questo rilascio prematuro fu una decisione controversa. Tornò a Chicago, nascondendo il suo oscuro passato e riprendendo la sua vita da cittadino apparentemente rispettabile. La sua capacità di ingannare chi lo circondava era sorprendente. Questo rilascio anticipato gli permise di continuare le sue attività predatorie senza controllo. La sua libertà rappresentava un pericolo costante per la comunità. Il fallimento del sistema nel contenerlo ebbe conseguenze disastrose, evidenziando le lacune nel sistema giudiziario, preparando il terreno per le sue successive atrocità. La sua capacità di sfuggire alla giustizia era inquietante. La capacità di Gacy di reinserirsi nella società mascherava la vera portata della sua mostruosa natura. La sua doppia vita continuava a ingannare tutti. Dopo il suo rilascio, Gacy si affermò rapidamente come un membro rispettato della comunità. Avviò una fiorente impresa di costruzioni, la PDM Contractors, che gli offrì l'opportunità di adescare giovani uomini. Il coinvolgimento di Gacy nella comunità, tra cui il travestirsi da Pogo il Clown, mascherava il suo comportamento predatorio. Assumeva giovani uomini per la sua impresa di costruzioni, usando le offerte di lavoro per isolarli. L'aspetto affascinante di Gacy e il suo coinvolgimento nella comunità fornirono una copertura perfetta per i suoi atti efferati. Questa dualità è una ghiacciante promemoria di come le apparenze possano ingannare. Il metodo di Gacy per adescare e uccidere le sue vittime era calcolato e insidioso, un piano meticolosamente orchestrato per sfruttare le vulnerabilità delle sue prede. Prendeva di mira giovani uomini, spesso fuggitivi o in cerca di lavoro, usando la sua impresa di costruzioni per guadagnarsi la loro fiducia. Offriva loro opportunità di lavoro e un senso di sicurezza, facendoli sentire al sicuro. Una volta a casa sua, Gacy li induceva a bere alcolici o droghe e li convinceva a provare le manette come parte di un gioco di prestigio. La sua abilità nel manipolare le situazioni era spaventosa. Quando le vittime erano immobilizzate, Gacy rivelava le sue vere intenzioni, torturandole e infine strangolandole. La paura e il dolore che infliggeva erano indescrivibili. Si sbarazzava dei loro corpi nello spazio sotto il pavimento della sua casa o nei fiumi vicini. La sua freddezza nel gestire i cadaveri era agghiacciante. Le azioni di Gacy erano pianificate, riflettendo un agghiacciante di stacco e mancanza di empatia. Ogni mossa era studiata per evitare sospetti e continuare la sua macabra serie di crimini. L'inizio della fine per Gacy arrivò nel dicembre 1978, quando il quindicenne Robert Piest scomparve. Piest fu visto l'ultima volta mentre incontrava Gacy per un potenziale lavoro, suscitando immediata preoccupazione. Le indagini portarono la polizia a Gacy, rivelando la sua precedente condanna per violenza sessuale. Una perquisizione a casa di Gacy portò alla luce oggetti sospetti e un odore nauseabondo, proveniente dallo spazio sotto il pavimento. Gacy confessò ai suoi avvocati gli omicidi, portando a un secondo mandato di perquisizione. Il 21 dicembre 1978, la polizia scoprì resti umani nello spazio sotto il pavimento di Gacy, portando al suo immediato arresto. Dopo il suo arresto, la casa di Gacy divenne il punto focale di una massiccia indagine forense. La polizia scoprì i resti di 29 giovani uomini, ognuno dei quali rappresentava una vita tragicamente spezzata. Le confessioni di Gacy furono agghiaccianti, descrivendo in dettaglio come adescava, torturava e uccideva le sue vittime. Nonostante le sue confessioni, Gacy tentò di appellarsi all'infermità mentale, sostenendo di avere una doppia personalità. Le prove erano schiaccianti, collegando Gacy alle sparizioni e agli omicidi. L'arresto di Gacy segnò la fine del suo regno del terrore, ma il cammino verso la giustizia era solo all'inizio. Il processo a John Wayne Gacy iniziò il 6 febbraio 1980, nella contea di Cook, Illinois. Gacy affrontò 33 capi d'accusa per omicidio, il che rese il suo uno dei più grandi casi di serial killer mai processati negli Stati Uniti. L'accusa presentò una montagna di prove, tra cui le confessioni di Gacy e le testimonianze delle vittime sopravvissute. Il 12 marzo 1980, la giuria riconobbe Gacy colpevole di tutti i capi d'accusa per omicidio, condannandolo a morte. Il processo offrì una parvenza di giustizia alle vittime e alle loro famiglie. Dopo la sua condanna, Gacy fu condannato a morte e trasferito al Menard Correctional Center. Continuò a sostenere la sua innocenza, presentando numerosi ricorsi per ritardare la sua esecuzione. Mentre era in prigione, Gacy occupò il suo tempo dipingendo, creando opere d'arte tristemente famose. Il 10 maggio 1994, Gacy fu giustiziato tramite iniezione letale, portando un senso di chiusura alle famiglie delle vittime. La morte di Gacy segnò la fine di un capitolo lungo e doloroso per la nazione. La scoperta dei crimini di Gacy suscitò un'ondata di sconcerto nella società americana. La capacità di Gacy di eludere la cattura pur mantenendo una facciata di normalità turbò profondamente l'opinione pubblica. Il suo caso portò a cambiamenti significativi nelle pratiche delle forze dell'ordine e nella consapevolezza pubblica. La copertura mediatica portò il tema dell'omicidio seriale alla coscienza nazionale, contribuendo alle moderne tecniche di profiling criminale. Il caso di Gacy funge da cupo promemoria del potenziale di male negli individui apparentemente comuni. I crimini e il processo di Gacy hanno lasciato un segno indelebile nella cultura americana. La sua storia è stata oggetto di numerosi libri, documentari e film, riflettendo l'interesse della società a comprendere il male. Il personaggio di Gacy come killer clown è diventato un macabro simbolo che fonde l'innocenza infantile con atti mostruosi. L'interesse costante per il caso di Gacy ha suscitato dibattiti sull'etica del consumo dei media sul crimine vero. Nonostante il sensazionalismo, la storia di Gacy funge da monito, ricordandoci di guardare oltre le apparenze. La storia di John Wayne Gacy è uno dei capitoli più oscuri della storia criminale americana. Le sue azioni hanno lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva, ricordandoci quanto possa essere insidiosa, la malvagità nascosta dietro una facciata di normalità. Sottolinea l'importanza della vigilanza, dello scetticismo e della consapevolezza della comunità nell'identificare potenziali minacce. La collaborazione tra i cittadini e le forze dell'ordine è cruciale per mantenere le nostre comunità sicure. Il caso di Gacy evidenzia la necessità di riforme sistemiche e di un migliore sostegno per gli individui a rischio. Le lacune nel sistema di giustizia penale devono essere affrontate per prevenire tragedie simili in futuro. Studiando casi come il suo acquisiamo informazioni preziose per prevenire futuri crimini e sostenere le persone colpite. La ricerca e l'educazione sono strumenti fondamentali nella lotta contro il crimine. Nel ricordare le vittime di Gacy onoriamo le loro vite e riaffermiamo il nostro impegno per la giustizia e la vigilanza. Ogni fiore e ogni candela accesa rappresentano una promessa di non dimenticare mai. Le loro storie ci ricordano di cercare la comprensione e la protezione per tutti, anche di fronte all'oscurità. La solidarietà e il supporto reciproco sono essenziali per costruire una società più sicura e giusta per tutti.